Valpizza nasce nel 1992 a Castello di Serravalle, un paese medievale incastonato tra le suggestive colline della Valle del Samoggia. Siamo nel cuore della strada dei vini dei colli bolognesi, patria naturalistica di prodotti italiani d'eccellenza. Da oltre vent'anni Valpizza afferma la propria identità familiare ed il radicamento su un territorio tipicamente italiano, attraverso la produzione e distribuzione di prodotti da forno surgelati di alta qualità, iniziando da subito a collaborare con i più importanti gruppi alimentari del settore. I prodotti Valpizza rispecchiano i valori della tradizione della terra tradotti nel piatto made in Italy per eccellenza. È un'industria ad alto contenuto di innovazione che, grazie alla costante ricerca delle migliori materie prime, riesce a garantire un'artigianalità nella preparazione del prodotto paragonabile a quello fresco. Per arrivare a questo obiettivo, Valpizza utilizza un preimpasto detto Biga, che beneficia di una lenta lievitazione naturale della durata di 24 ore, in ambiente dedicato. Il controllo elettronico assicura alla base lievitata un'alveatura più fine, una maggiore leggerezza e digeribilità, un gusto e profumo intensi e un tempo di conservazione più lungo. La tiratura manuale contraddistingue il fondo pizza, bianco e con pomodoro, per il bordo più alto nel rispetto della tradizionale pizza italiana. Valpizza arricchisce le basi con materie prime selezionate e, per mezzo di un'avanzata tecnologia, alterna la farcitura con sistemi automatici a quella di mani esperte di operatori qualificati. Fiore all'occhiello del processo produttivo Valpizza è la cottura su pietra nel forno a legna 100% ecologico all'avanguardia in Europa, che sforna oltre 60 milioni di pezzi unici all'anno. La rigorosa selezione degli ingredienti e l'innovazione tecnologica permettono di soddisfare i bisogni dei consumatori più esigenti e di raccogliere sfide continue come la preparazione di ricette sempre più sofisticate ed originali. Snack, basi, spianate ed un'infinita gamma di pizze, farciture e confezionamenti sono solo alcuni esempi di proposte ad hoc per ogni tipologia di clientela, che oggi è rappresentata da gruppi di catering, GDO e industrie del settore. La quota export supera l'80% del fatturato globale e Francia, Svizzera, Germania, Spagna, Benelux, paesi scandinavi sono alcuni dei mercati più significativi. Sempre più aziende scelgono Valpizza come produttore certificato in piena conformità con gli standard HACCP grazie ai quali sono state mantenute le certificazioni di qualità BRC e IFS. Valpizza esporta anche negli Stati Uniti, in Giappone, Corea, Australia, Cina, Russia con la propria filiale, paesi baltici e Medio Oriente. Valpizza è inoltre punto di riferimento anche nel mercato nazionale e, per promuovere i nuovi prodotti, partecipa alle più importanti fiere internazionali di settore ed effettua pubblicazioni sulle principali riviste specializzate. Valpizza, la pizza italiana, quella buona!